Ospitando il convegno di Eterno e le importanti manifestazioni all'Ateneo, l'Ateneo vuole fare la sua parte nel divulgare le conoscenze su un patrimonio, quello forestale italiano, costituito da circa 9 milioni di ettari di foresta e quasi 2 milioni di ettari di altre terre boscare, in prevalenza arbustere, boscaglie e macchie, che hanno per il Paese un ruolo strategico. A distanza di qualche giorno, comunque, in quest'Aula Magna e Pisterni, si torna a parlare di ambiente e questo, laddove fosse necessario, ci fa comprendere come la Mediterranea guarda l'ambiente con una particolare attenzione, tanto da riservare a questa tematica un interesse trasversale che viene definito nelle diverse aree che la compongono. L'Ateneo è una giornata odierna, si fa quindi nuovamente partecipe di azioni rivolte alla conoscenza e alla gestione sostenibile delle risorse ambientali e naturali. grazie a tutti.